Negli studi di TV City il consigliere comunale Michele Langella sono partiti in questi giorni interventi di riqualificazione in Litorania in vista della riapertura dei lidi e della prossima stagione estiva. Sì, è un obiettivo che ci siamo dati lo scorso anno con lo stanziamento di circa 100.000 euro a bilancio per gli arredi urbani e la riqualificazione del litorale. Saranno realizzate nuovi arredi urbani come le pensiline per le fermate dei bus, nuove panchine, il cambio dei cestini che oggi sono presenti o non presenti sul litorale e la ripentumazione di quelle essenze arbore che oggi mancano. Un progetto questo nell'immediato ma in futuro la Litorania cambierà a look? Sì, la Litorania cambierà a look. Fortunatamente Torre del Greco è stato comune capofila di un progetto che comprende circa 9 comuni a livello di città metropolitana per il recepimento dei fondi del PNRR. Torre del Greco è stata beneficiaria di circa 8.400.000 per la riqualificazione complessiva del litorale. Quindi si pensa a una pista ciclabile, si pensa a un riammodernamento anche in virtù delle nuove esigenze turistiche del litorale e di Torre del Greco. Anche perché questa amministrazione comunale ha sempre pensato che una città come Torre del Greco a vocazione turistica il suo sviluppo non potesse prescindere da quelle che sono i nostri due caposaldi, il porto e il litorale. Un progetto questo per la Litorania che è già stato messo nero su bianco? Il progetto è stato già approvato in giunta, ora i tempi tecnici sono in pratica i seguenti. Entro la fine di quest'anno, fine 2022, dovremo approvare il progetto definitivo. 2023 bisogna appaltare i lavori e tutte le opere dovranno essere concluse entro e rendicontate entro e non oltre dicembre del 2026. Oltre la pista ciclabile che cosa prevedete? Ci sarà un agorà per gli spettacoli, una piazza sul mare, sul litorale e il rifacimento di tutto quello che è l'arredo urbano, la pavimentazione, la ringhiera. Quindi tutto quello che è il litorale, così come adesso, sarà completamente stravolto. Verranno eliminate come da progetto le aiuole e verranno sostituite da altre tipologie di arredi. Quindi sarà un litorale innovativo anche con una pubblica illuminazione innovativa e soprattutto un lungo tratto di litorale diventerà senso unico. Grazie a tutti.